Buongiorno, procediamo oggi al sorveggio del concorso pubblico, dei componenti commissioni del concorso pubblico per quattro dirigenti medici, discipline di ginecologia e ostetologia. Diamo atto che la commissione, costituita ex articolo 6 di PR 483 97, con deliberazione del direttore generale numero 263 del 22 agosto 22, è così composto. Emanuele Olivero, presidente titolare, Paola Brondino, componente titolare, Francesco D'Abbene, componente con funzione di segretario titolare. Ai sensi dell'articolo 25 del citato di PR, la commissione deve procedere al sorteggio dal ruolo nominativo regionale di un dirigente del secondo livello dirigenziale ora direttore, appartenente al profilo radici più in oggetto del concorso. Ciò premesso diamo atto che la data del sorteggio è stata pubblicata sul burro della Regione Piemonte numero 14 del 2023. Il sorteggio dovrà essere effettuato dall'elenco nominativo personale dipendente della Regione Piemonte e verranno estratti tre nominativi, un componente titolare, un supplente e una riserva. I dirigenti medici responsabili di struttura complessa inseriti nell'elenco regionale sono il numero di 23. Le operazioni di sorteggio verranno effettuate utilizzando 10 numeri da 0 a 9, ciascuno inserito un contenitore di plastica in un recipiente non trasparente in cui questi mutili verranno inserito. La commissione si alterrà alle seguenti disposizioni, si estrarranno tanti numeri quanto sono le cifre che compongono il numero massimo sorteggio, di cui la prima potrà distinguere unità, la seconda le decine, fino a ottenere un numero riettante in quella dei candidati all'estrazione. Procediamo quindi con le modalità di scritto e le operazioni di sorteggio. Partiamo dal componente titolare unità. Unità. Tre. Unità, tre. Lasciamo fuori. Decine. Cinque. Non valido. Non valido. Sette, non valido. Quattro, non valido. Numero ventitré, titolare Piemonte, vendola Nicoletta, azienda di Vercelli. Procediamo. Unità. Cinque. Lascio fuori. Decine. Sette, non valido. Tre. Non valido. Non valido. Sei. Non valido. Zero. Valido. Supplente numero cinque. Piemonte. Piemonte. Piemonte, Bogliatto, Fabrizio, azienda Torino, Pott. Riserva, unità, zero, decine, cinque, non valido, quattro, non valido, uno. Non va bene perché in realtà è già il supplente regionale, il numero 10, quindi non può che essere 20. Sì. Quindi, unità zero, decine, due, numero 20, la riserva è Ruspa Giovanni, azienda di Novara. Ricapitoliamo, il titolare è il numero 23, Vendola Nicoletta, il supplente è il numero 5, Pogliatto Fabrizio, e la riserva è il numero 20, Ruspa Giovanni. Sì. Sono le ore? 15 e 21, 26. 26. Siamo atto che si conclude il sorteggio. Sì. 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 Sì.